vuoi conseguire 12 crediti formativi universitari nella disciplina ius 10 presso la scuola superiore per mediatori linguistici cotea autorizzata dal miur è possibile seguire singoli insegnamenti attivati presso il corso di studi in scienza della mediazione linguistica sostenendo i relativi esami di profitto si riceverà regolare attestazione il corso di diritto amministrativo ius 10 ti consentirà di conseguire 12 crediti utili per integrare il tuo piano di studi accademici per saperne di più vai su www.icotea.it tipologia corsi singoli avvia la ricerca cerca diritto amministrativo ius 10 monte ore 300 crediti formativi universitari 12 durata 75 giorni